ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video come avete capito dal titolo è un video dove vi farò vedere tutti praticamente tutti i miei rossetti credo di non averlo mai fatto in caso vi ho fatto quando facevo i video ovviamente vi facevo vedere le cose che compravano i cinesi roba dei trucco vi faccio vedere mano a mano i rossetti però credo che i rossetti in sé per sé tutti quanti quelli che ho e notatissimi quindi preparatevi non ve lo fate mai vedere credo quindi io oggi vi farò vedere tutti i miei rossetti tutti i miei lip gloss luci da labbra eccetera eccetera vi faccio vedere tutto un'altra un'altra cosa vi volevo dire che qui mi sono scordata aspettate altri due rossetti da farvi vedere vabbè li metterò qua scusatemi scusatemi un attimo e in più vi volevo dire mettetevi comode 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 metto un attimo a posto ecco quindi mettetevi proprio comode prendetevi una tisana un caffè un caffettino un tè quello che vi pare e così io vi faccio vedere che non so quanto durerà questo video credo che non sarà cortissimo comunque vediamo perché ne ho veramente tanti allora intanto vi faccio vedere i primi sono questi che li ho messi dentro a questa scatolina qua che questi dei cinesi lo comprate qua non l'ho messo in fila per ordine rosa rosci verdi viola perché non mi appare il caso poi quest'altra scatolina queste qui sono molto carine queste trasparenti comode per mettere i rossetti che qui ce ne va 9 questa poi un'altra scatolina uguale la prima guarda questa qua e più quest'altra scatolona dove ho cioè guardate sono proprio piena di rossetti e come sapete i rossetti sono il mio trucco preferito ok guardate quanti ce ne ho quindi qui c'è un cappello mio scusatemi quindi a posto vi detto mettetevi comode perché ho veramente tanti da farvi vedere ovviamente non mi risuoccio perché non finirei mai parte sul video durerà d'ore se vi risuoccio pure e poi non mi basterà i bracci le mani eccetera eccetera a oltre a questi rossetti li ho anche qua in questa bustina c'è in questa bustina scusatemi in questa fuschetta diciamo o altri rossetti qua dentro vedete adesso vi dico un aneddoto mio diciamo non mi prendetemi per matta non so se alcuni di voi è come me casomai scrivetemi sotto i commenti qui dopo li tiro fuori i rossetti questi quali rimetto qui perché adesso vi spiego allora siccome come avete visto io tanti rossetti io praticamente cosa faccio il sabato mi trucco come sapete il sabato mi trucco per esempio voi voi usare un rossetto rosa vi prendo un rossetto rosa dopo dopo sia sabato che lo stesso giorno anche la domenica de qua della così così e poi lo vado a mettere qui dentro dentro questa pochettina qua perché faccio questo ogni volta che io praticamente metto un rossetto diverso da un altro ogni settimana quando mi devo truccare insomma lo metto sempre lì dentro perché in questo modo dato con tanti rossetti come vedete se io lo rimetto qui dentro oppure lo metto in una scatolina come questa può darsi che quando io mi vada ritruccare che faccio un altro trucco nuovo eccetera eccetera vado utilizzare lo stesso rossetto rosa che ho utilizzato già la volta scorsa con la settimana scorsa e perché faccio così comunque ripeto perché non voglio riprendere un'altra volta lo stesso rossetto dato che non tanti li vuoi utilizzare tutti insomma i rossetti ovviamente quindi non voglio che se vanno a rovinare per dirvi quindi io cerchio di utilizzarli tutti quindi per questo ogni volta che io adopero un rossetto prendo quando non mi so che non mi serve più e lo metto dentro la pochettina poi la prossima settimana lo voglio uno rosso prendo questo tipo di rosso me lo metto sabato domenica quel giorno è poi cosa faccio via scusate il cavaletto sarà sbrega tutto e lo rimetto dentro la pochettina faccio sempre così perché la pura mia dopo che mi vada a riprendere sempre lo stesso rossetto per dirvi no quindi dico aspetta questo già l'avevo messo no questo sì questo no insomma mentre c'è loro e me li levo li metto dentro la pochettina dopo quando tutti strane dentro la pochettina e rimetti a posto e poi ricomincio da capo non prendetemi per matta e faccio così perché non è un vizio non è un abitudine non è niente di niente è una cosa mia che faccio in questo modo per me molto comodo perché ripeto non voglio utilizzare sempre lo stesso rossetto identico insomma diciamo e così anche perché li vado ad operare tutti non faccio che dopo solo quelle basta capito ragazzi quindi faccio così fatemi sapere se anche voi avete questa cosa come me se siete così anche come me casomai lo scrivete sotto i commenti io faccio questo perché ho tanti rossetti ovviamente ne avevo cinque o dieci non c'era bisogno che lo andava a mettere la pochettina mi ricordo che rossetto avevo usato in precedenza invece dato che erano tanti faccio in questo modo meno così li adopero tutti e fatemi sapere l'avrò detto 800 volte sotto nei commenti cosa cioè se cosa ne pensate di questa cosa mia non mi prendetemi per matto per deficiente o per stupida perché non lo sono una cosa mia che secondo me è molto carina da fare perché comunque almeno so quali rossetti poi ho operato e se che avete messo i commenti se anche voi fatti in questo modo se alcuni di voi fanno così allora cominciamo subito adesso infatti vi faccio vedere il rossettico ha dentro questa pochettina che già ho operato che già ho messo nelle scorse settimane allora abbiamo questo qui che ha un matt lip gloss l'ho preso dai cinesi intanto poi vi dico anche dove l'ho presa maggior parte comunque ragazzi cinesi e non ricordi pressivamente questo dice che dura 24 ore è un lip gloss della wine in questo bellissimo rosso lo volo vedete più scuro ma leggermente più chiaro e questo qui è opaco ed è così questo è il primo rossetto poi abbiamo ricerca andare veloce che non c'erano tanti non voglio che si allunga sto video che arriva tanto lungo di già parlato tanto all'inizio allora questo qui dell'astra che mai lipstick loro intenso dice vibrante va bene che questo colore qui questo pure dovrebbe essere un malva tipo voi li vedete un po più scuriti ma questo più o meno uguale questo malva ovviamente utilizzato poi abbiamo questo qui questo è della nice face che questo qui io c'ho tutta la collezione che sono 12 rossetti vedete come questi che questi me l'ha fatto il ragazzo mi chiede già avevo fatte vedere il video è un video il video dei regali di me pare di natale che mi ha fatto lucava preso su wish però insomma vi faccio rivedere anche per chi non l'ha visto questo bellissimo grigio ed è così questi pure sono opachi e durano veramente oggi non mi vuole metà a fuoco e durano veramente tanto questi veramente poi abbiamo questo qui che questo è della cn che l'ho preso al lidl lipstick ma perché non metà a fuoco oggi o ma perché lo faccio vedere così e questo è un rosa antico in questo questi mesi massacrano e comunque questa delle si è ancora date che robe poi ne che faccio niente comunque questo poi abbiamo vedete un altro questo qui della nice face questo che colore è buono ve lo so dire se un nude venute come avvicino lo faccio vedere quaggiù ragazzi però che vediate lo stesso è un nude marroncino nude poi ho questi qui che sono questi pure le ho presi al lidl che sono ultra shiny lip gloss questo è la pesca però questi non è che colorano tanto vedete fatto così qua esce il prodotto vedete però non è che colorano tanto sinceramente vedete trasparentino qua del tappino questo cosa mai sotto ci mettete comunque profumano che una vera via te lo va dei magnalli sa proprio di pesca infatti pesca sopra un altro colore ovviamente lo mettete così vedete poi questo c'è un po di brillantini poi abbiamo un altro della whiny uguale a quel primo che vi ho fatto vedere quello rosso questo è un bellissimo rosa porpora non so ma è bello bello tanto ma sì invece ma vicino un pochino aspettate un attimo che oggi mi sta a dannato telefono che non vuole mettere a fuoco a questo non sono messa più da vicino poi cerco di velocizzarmi abbiamo questa qui della rb della royal beauty che questo è un rosso scarlato molto bello questo poi questi durano parecchio questi rossetti questo però è normale neopaco della royal beauty poi abbiamo quest'altro della whiny questo bellissimo viola stupendo bellissimo questo pure matt poi abbiamo questo qui un altro della nice face questo è un rosso mattone questo rosso mattone questo rosso mattone poi abbiamo un altro della whiny questo qui lilla questo pure molto bello e molto delicato eccolo qua poi abbiamo questo qui quello preso dai cinesi che della si bella rossetto matt questo pure non so che colore ha detto me lo vuoi non lo so mi scusate vi stavo dicendo non so pare un marroncino color carne buono non lo so dire che colore ha se malva anche questo tipo e assomigli allora questi qui li abbiamo finiti questi dentro la borsettina quelli che già io praticamente usato adesso li rimetto dentro perché sennò come vi ripeto mi imbroglio ok adesso passiamo alla prima scatolina allora prima scatolina abbiamo questa qui che lo preso dai cinesi sempre della si bella questa è matt che è questo bellissimo marrone bello pare a ci ha un po di micoplantina all'interno una roba del genere poi abbiamo questo qui che è bellissimo questo l'ho preso dal dico che dico sarebbe il tuo di che è un supermercato che c'erano questi qua che ho luci da labbra lip gloss questo pure vi consiglio sopra un altro colore perché non è che sono tanto scriventi questo li metto a posto ok poi abbiamo questo qui che pure l'ho preso dai cinesi anche il packaging molto carino che questo bellissimo rosa e della wine ok poi abbiamo quest'altro questo aiuto che sbatto del cavalletto questo è pure dei cinesi che della michela valenti questo è un altro questo in fucsia scusate bellissimo poi poi abbiamo questo qua fate questi qui sono bellissimi questo è un matte lipstick se fa un po fatica a stenderli però ci si riesce bellissimo ancora qua bellissimo rosa molto acceso bello bello poi ho quest'altro che della stessa marcia uguale a questo che ho fatto vedere pure questo è matte però questo è un po più chiaro di cui l'altro pare uguale ma non è un po più chiaro poi ho questo qui pure questo qui è un questo è bellissimo pure del cinesi sempre preso anche questo pure questo è un altro porpora questo non ho usato tantissimo perché questi sono quelli nuovi che ho usato da poco perché ripeto sempre col fatto lì che io uso uno alla volta eccetera eccetera poi abbiamo questo qua questo è della susi bellissimo anche questo questo rosa bello poi ultimi due ho questo qui della kiko ovviamente nero questo è un colore nero bellissimo che questi altri qua ecco vedete saprono così questo packaging stupendo ovviamente il nero non poteva mancare vedete kiko non poteva mancare ovviamente packaging è una roba stupenda e poi l'ultimo della prima scatolina abbiamo questo qui di my listi lipstick full color dell'astra che questo bellissimo malva quanto adoro sto colore assomiglia a charme delle passioni unghie del gel color solo che quello lì un po più chiaro però non ho preso un altro gel color che vi ho fatto vedere che uguale a questo praticamente bellissimo allora prima scatoletta ve l'ho fatta vedere adesso possiamo alla seconda scatolina eccola qua allora abbiamo questo qui della sien che è un rosa della sien si sempre al leader il predo questo è parlato vedete vedi se massacrano e tutti qua questi sa parte ma va bene poi abbiamo quest'altro pure della sien questo proprio tutto massacrato che questo rosso vabbè se massacrano e tutti non so perché poi abbiamo questo qui che questo l'ho preso la essence che è un rosa credo questi sono opachi pure questo qua mi è stato bregato vedete il simbolo della essence poi abbiamo un altro della essence sempre opaco questo qui è rosso un rosso non proprio bordeaux proprio ci assomiglia poi abbiamo questo qui che l'ho preso dai cinesi questo è lovely kiss questo vabbè si è sbrigato guardate questo pure lo sto attento eccolo sapevo di questo casca vedete questo ormai messa che da buttarlo via però vabbè aspettate che mi sono cosata tutta sfruttato pure qui non è sangue per chi apre il canale il video adesso pensa che mi sono dissanguata poi abbiamo un altro di questi qui che ho fatto vedere prima nella si bella sempre dai cinesi questo bellissimo ora guardate quanto è bello questo è stupendo pure questo metallizzato pare sempre opaco poi un altro di questo qui costi pegaging che sono stupendi integrati che questo bellissimo rosso bordeaux pure pare per questo metallizzato per questo pacco poi abbiamo questo qui che pegaging molto carino cicciotto qua della debora che questo bellissimo colore guardate cia sti micro brillantini arcobaleno bellissimi che questo rosa bellissimo questo non colora tanto però c'è se vede rosato così micro brillantini carino però rimane più delicato quindi solita una cosa proprio delicata quella dato poi abbiamo questo qui questo pure della michela valenti guardate il pegaging dietro qua fatto così a rombo qua liscia normale compreso questo qui corallo tipo voi lo vedete più aranciato ma è molto più acceso e più bello quello che vedete voi e niente la prima seconda scatolina l'abbiamo finita adesso passiamo alla terza abbiamo sempre questo qui guarda con l'altro che mi si è sbregato come ci sono macchiata sempre della lovely kiss che è un altro rosso però vedete mi si spaccare tutti qua non so perché comunque bello poi abbiamo della essence questi qui che ho preso all'inizio ma non mi sono piaciuti perché non colorano e per niente ma se volete da un colore così a vederlo pare che colora ma non per niente ragazze veramente questo rosso poi abbiamo questo qui che ho preso ai cinesi questa pure delle di venezia questo bellissimo viola pure questo è bello bellissimo poi abbiamo aiuto questo qui della sien che è un rosso anche questo per questo vedete si sbrega nei tutti poi dire che sui alcuni rossetti messi sbrega si vede che vedete qua più largo qua più stretto quindi quando lo chiudi questo sei cosa tutto lì dell'ato quindi non è che se io sono anche quell'altro si deve essere roti per lì poi un altro della essence pure questo rosa che guarda quello rosso che ho fatto vedere poco fa pure questo non colora niente anche se l'ho operato questo non perché l'ho operato per tutti i giorni insieme a quello rosso così per dai scusatemi per dare un colore alle labbra proprio così alla via poi abbiamo questo qui che è vecchissimo ragazzi sicuro avrò preso dai cinesi che queste ora di buttarlo via come sa che anche rovinato poi non colora più questo vabbè ve lo lascio qua poi ho perso se ce la faccio a staccarlo forse l'ho fatta qui ancora c'era il prezzo 2 euro l'ho pagato sempre dai lì di venezia questo carinissimo rosa anno poi abbiamo aiuto madonna un attimo però questo qui della michela valenti un altro rosa questo è un rosa più nude color carne tipo rosa carne roba del genere e poi per finire mi pare ma abbiamo questo che questo non sono rotto tutto mi piaceva tanto dei cinesi guardate che non posso aprire più che scuartato tutto questo è bellissimo proprio rosa shocking della wine e poi abbiamo questo qui questo marroncino sempre dai cinesi l'ho preso bello anche questo ok dopo farvi vedere queste tre scatolette faccio vedere la scatolona con tutti questi rossetti qua allora abbiamo m parti tappi allora abbiamo della lady venezia sempre dei cinesi questo l'ho finito praticamente vedete non c'è sta più cosa devo buttare ma come ricordavo ragazzi quindi questo è niente via questo si butta lo buttiamo dopo poi ecco questo qui sempre della nice face che questo qui è un rosa marrone rosa antico buon non volevo su dire li metto qui poi poi questo qui che ho preso lì dalla al leader sempre della siena questo è al cocco un cocco poi un altro lip gloss sempre al leader della siena questo invece è al melone vedete sono trasparentini poi ho questo qui che è bellissimo della wine e pare oro vero ragazzi c'era oro vera storia non stavo qua sempre dei cinesi che questo bellissimo colore proprio scusatemi questo colore che proprio estivo bellissimo per questo pare tipo corallo mi mi piacciono un po questi colori stili così poi ho questo questo della foca lux che l'ho preso questo è bellissimo che è opaco e c'è brillantinato metallizzato che l'ho preso da wish questo è bellissimo quando si asciuga ha una roba bella un bel po' e rimane brillantinato però opaco poi ho questo qui sempre della michela valenti sempre dei cinesi questo colore malva non mi piace il malva a me se vedi poi ho preso questo qui della siena che ho luci da labbra questo è c'è anche di micro brillantina all'interno voi vedete arancione ma non è arancione luci da labbra questo bello poi della nice face abbiamo questo qui che è un nude marroncino bello scusate se sentita discora fa casino fa lo sciapotto e mi fiolo che c'è un amico suo a casa gioca questi praticamente che erano uguali ma no questo qui è più chiaro di quello che ho fatto vedere adesso questo è molto più chiaro poi abbiamo questo lip gloss che ho preso della siena questo marroncino questo marroncino qua poi abbiamo questi qui costati 2,90 euro vedete un altro di questo qui di questo packaging preso dai cinesi come quell'altro che questo bellissimo rosa sono andando veloce perché non mi voglio ne mancano gli aree poi abbiamo l'astra my life lipstick che questo qui vi ho dato giù un bel po' vedete perché era il nude bellissimo solo che molto cremoso infatti quando lo metto ci metto un po' di cipria poi un altro di questi qui della lovely kiss sempre dei cinesi che questo marroncino qua un po' più chiaro poi ho questo qui packaging molto carino a campana pare che è un marroncino sempre dei cinesi poi ho questo qui che pure la vita che ce l'ho dell'astra che è forever gloss questo lucica tantissimo comunque anche te le labbra poi ho questo qua dei michela valenti sempre che è questo rosa qui pare un rosa antico anche questo comunque mi piacciono tutti di quelli che ho acquistato ovviamente se no non lo acquistavo poi abbiamo questo qui della wine che per questo dice che dura 24 ore che è un matt ancora no l'ho usato mi pare no l'avevo provato ma non l'ho usato per bene vedete nuovo nuovo bellissimo sto colore poi ho questo qui sempre lì al al tuo dico l'ho preso come come dove è come questo vedete uguali però questo qui è bianco questo sopra un altro rossetto vedete io l'ho fatto però dopo si sporcava tutto vabbè per dai un po' di lucentezza perché ho questi trasparenti poi della nice face questo qui rosa voi lo vedete più chiaro ma è un po' più scuro carinissimo poi abbiamo questo qui che l'ho preso mi pare dai cinesi linea dolly che ha un lucido a labbra voi lo vedete molto chiaro cacchio ve lo fa ma invece è molto più scuro molto più scuro lo vedete questo lucido a labbra è stupendo anche molto delicato poi abbiamo questo qui che è della susi questo pure matt e questo pure me sta a partì questo colore qua poi ho questo qui che è molto bello pure questo oro col packaging così bellissimo della wine sempre dai cinesi per questo nuovo del zecca vedete bellissimo poi abbiamo questo qui della lady venezia sempre che a questo marroncino ok poi abbiamo un altro della nice face questo pure più o meno il colore uguale si lo vedete uguale anche questo un rosso marrone bene questo poi della nice face abbiamo un altro rosa questo qui poi abbiamo la matitona questo è l'ho preso al lidl della siena color lip butter questo ancora devo vedere come mi ci trovo è un porpora pare poi della essence pure abbiamo questo che è molto bello questo marrone che pure questo opaco questo pure dura una vita molto doperato pure questo bellissimo poi abbiamo questo rosa qui sempre della siena la lida l'ho preso poi abbiamo questo qui sempre al lidl della siena che è questo viola questo pure io dato giù se vede poi abbiamo questo qui che stupendo che inizio pensavo che era nero invece è un viola molto scuro che questo è questo della wet and wild cioè stupendo questo bellissimo poi abbiamo questo qui vabbè che è un my gloss vedete che anche sporco sono era trasparente per farla lucentezza qui altri colori ovviamente non opachi oppure se volete mettere un rossetto opaco mettete questo sopra per di voi lo fa lucido ecco pre lo metto sopra quelli lucidi per rendere ancora più luce poi della nice face adesso tutti i nice face abbiamo questo qui sempre in color card marrone marroncino questo poi abbiamo quest'altro rosato voi lo vedete più chiaro ma è più scuro poi no si fuci da labbra eh si il burro cacao quest'altro come voi lo vedete più chiaro e più scuro sempre sui nude poi l'ultimo della nice face è quest'altro rosa scusate se vi faccio vedere veloce ma non voglio essere noiosa poi della kiko quelli nuovi che ho acquistato che stupenti che questo qui che è questo qui è fate così luci da labbra tipo lip gloss ma dopo diventano opachi questi durano veramente tanto anche questo è militare color no militare questo pare più un petrolio color petrolio verde petrolio che militare e poi avevo acquistato questo bellissimo blu pure metallizzato dalla kiko che poi c'era un altro blu più semplice tipo come questo qui di lunghe mie più bello però voluto uscire questo qui un po più scuretto poco l'altro lo prenderò e poi va bene la bello questo qui il leo crema uno della siena questo non ricordo preso questi qua niente allora questi qua sono stati tutti i miei rossetti di non cascati adesso vi rimetto tutti la niente questi sono stati ancora sono stati tutti i miei rossetti io spero che vi siano piaciuti se è stato così mettete un pollice in su spero che non vi ho non vi ho annoiato a farvi vedere tutti scusate non ve li ho sbocciati ma è l'impresa sbocciarli e fatemi sapere qual è stato il vostro rossetto preferito il vostro pezzo preferito quindi quale tonalità dei colori vi è piaciuto di più insomma quale rossetto vi è piaciuto di più il vostro preferito di quelli che ho io e fatemi sapere che se alcuna di voi ha qualche rossetto con uguale cerca uguale al me insomma uno dei cinesi o della kiko delle essence lo della si è insomma sarà uguale al mio quindi sotto i commenti fatemi sapere qual è stato vostro pezzo preferito quindi quale rossetto vi è piaciuto di più quale tonalità quello che è anche più di uno ovviamente e in più fatemi sapere se anche qualcuna di voi a qualche rossetto uguale al mio che ne so tipo questo della kiko insomma eccetera e mettete un pollice su mi raccomando io vi saluto vi mando un enorme bacio e ci diamo presto al prossimo video ciao